Sulla Terra sono arrivati gli alieni più scombinati che ci siano. Sono gli Space Goofs, 5 coloratissimi amici venuti dallo spazio che vi faranno fare un sacco di risate. Buffissimi e ipertecnologici si troveranno alle prese con tutte le stranezze dei terrestri e succederanno di tutti i colori. Il Mondo Home Entertainment vi presenta Space Goofs, ora in una serie di videocassette a tutto divertimento.